Oggi ha una relazione con la sua ex fidanzata Karen Bursin. Ande Hercel, che si dice abbia avuto un'altra possibilità, interviene sull'argomento. L'ultima cosa che ha fatto dal suo account sui social media rimanendo in silenzio. Attenzione congiunta. Con bustino scollato. Condivisione del giocatore davanti alla telecamera sociale. Ha diviso in due i media mentre il filtro che ha applicato ha attirato l'attenzione. Parte dell'utente dei social media, l'ultimo stato del giocatore. Commento fatto. La famosa attrice Ande Hercel ha incontrato Karen Bursin sul set della serie TV Senkal Kapp. L'amore era cominciato. Tuttavia, la relazione della coppia è terminata tranquillamente otto mesi fa. Con la notizia della separazione. Il duo, che ha sconvolto i loro fan, ha recentemente dato alla loro relazione un'altra possibilità. Ha affermato. Bursin ha detto ai membri della stampa. Avete fatto di nuovo pace con Ande Hercel. Parlato di. C'è stata una riconciliazione? Hai ricominciato un amore, alla domanda. Non negare la riconciliazione dicendo, non entriamo in quest'ora. Ha attirato l'attenzione. Mantenendo il silenzio sull'argomento, Ande Hercel è sui social media. Ha inventato la condivisione. Utilizzando attivamente i social media, l'attrice ha girato un video con un bustino. Ha pubblicato le immagini nella sezione storia di Instagram. Le immagini condivise in molte riviste e fanpage si sono rapidamente diffuse sui social media. Ande Hercel, che ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti in breve tempo, ha diviso in due gli utenti dei social media. Mentre il filtro che ha applicato ha attirato l'attenzione, alcuni utenti dei social media hanno commentato l'ultimo stato del giocatore. Un utente di social media, additando il cambiamento di Hercel nel corso degli anni, la vecchia versione era molto meglio. Non importa quello che qualcuno dice, Ande Hercel è bello in ogni modo.